7UP Siamo superati all'oro Incorpora oggi e segnalo Prima gol in campionato Inter e B Però non fa tanti gol Ma quei gol sono le perme E' vero, i gol in coppa E' tutti di sinistro Guarda qui E' il Novernane Non c'è Mattia Leone Nel sinistro e nel destro Sono scarso con entrambi i piedi Oggi Navarro ho visto Mi hanno fatto cadere mille volte Mi hanno ucciso Tuttanato nel video No no compa I video possono commentarli Guarda com'è serio una volta E' serio una volta Comunque ha fatto scritto un grande ritorno Era la prima partita Che gioca per l'interno Grazie Buccone Però comunque abbiamo giocato bene Questa è la prima partita Giochiamo come si deve giocare Passando Passaggi corti Calma Tutto va Io ho visto molta calma Si sono Mattia però la squadra aspetta te Nel finale di stagione Puoi lasciare il segno Sicuramente Per come è iniziata Sto andando bene Tipo test Poi infortunio che ci può stare Vabbè poi io ho la cabiglia È abbastanza fragile Quindi speriamo che Che sia una cosa da nulla E che possa tornare presto Anche perchè Ovviamente Non è bello stare fuori A guardare la partita Ogni sabato C'è un topolino No no su Uca Dov'è? Ho passato un topolino Figlio di puttana No dai È un topolino Non ti mangi E' dove? Era passato E' qua E' dove? E' dove? E' dove c'è spui Che sia di puttana Il bello della diretta La viabilità di Nanni Il bello della diretta Insomma Questi tempi non si spaventano di niente Ma dei topolini M***a eh Un gatto Un gatto Prossimo turno Moitos Se topolino permettendo No Se vuoi Sei vuoi? Non li facciamo bricare Balla? No dai Ti avrei? No Mattia oggi Ma non è scatenato Empatia Eh Niente Moitos Vediamo Cioè giochiamo come te Speriamo di essere sei Almeno Oggi manca vabbè per te Mattia Mi Michele che è un concerto Signorino vabbè E poi al solito Dobbiamo fare il ringraziamento all'AltoScore Perché siamo sempre in emergenza Quindi abbiamo bisogno sempre della generosità di tutte le altre scuole E anche un ringraziamento all'Angelo Geraci Che ha finito di giocare Stato subito disponibilissimo A giocare con noi Sì sì Giò adesso Sì signori Sì sì Sono bellissimi ciò Ok ragazzi Grazie di tutto Ci vediamo sabato stavolta Si torna a giocare sabato Ok Grazie Ciao 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 ciao